bentornati ragazzi in questo nuovo ed in questo nuovo video diciamo in questo nuovo video delle 18.07 ma questo video lo vedrete un po' più avanti tipo tra un'oretta e due ore vi volevo chiedere spero che la musica sia un fattore nella mia scuola stiamo iniziando a fare il ccrr ovvero consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze adesso io ho fatto questo cartellone di prova ma la professoressa mia mi ha detto di far qualcosa in più perché certe idee li stiamo già facendo abbassiamo un po certi delle stiamo già facendo siamo in atto quindi voi nei commenti adesso vi farò vedere da questo lato qui vi farò vedere il il foglio dove avevo scritto tutte le idee e voi ora vi dico quale dobbiamo cambiare metto così perché devo sentire se bussano alla porta stavo dicendo ora voi nei commenti mi aiutate ora io dico ragazzi questo qua dobbiamo eliminarlo perché non va bene ha detto la professoressa e voi nei commenti esponete delle idee poi io su questo foglio qua scriverò commenti youtube di aiuto commenterò tipo non lo so tizio tizio 07 scrive ale scrivi boom boom cia 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 e io scrivo ovviamente però devo pensare non è che questa cosa già la stanno facendo scuola in tutto e per tutto e quindi noi noi stavo dicendo poi dopo un po vedremo allora iniziamo subito mettiamo eccola qua campagna elettorale ccrr 2021 allora dobbiamo basarci sulla scuola soldi ccrr soldi del ccrr scusate territorio tempo libero sport ambiente solidarietà adesso con questo allora adesso vi dico cosa dobbiamo cambiare cosa no allora la prima di sicuro ovvero usare i fondi del ccrr per costruire un'aula carrante per le riunioni e per gli open day un'aula grande di una di una di un'area di due metri quadri due metri quadri scusate è questa quella dobbiamo eliminare perché la prof mi ha detto i soldi del ccrr non è che ci abbiamo 30 mila euro a disposizione ci daranno non so 100 euro e basta ma non abbiamo 100 5 mila euro per fare un'aula poi ci vuole l'autorizzazione del comune ci vuole quell'altro ci vogliono tutte le cose quindi è meglio di no poi territorio fare escursioni sul po questo la prof ha detto che possiamo lasciarlo la tre a la tre l'avevo cancellato un pezzo la tre la musica non va più ok allora la tre se non sbaglio e voleva la pubblicità ma l'ho bloccato vabbè stavo dicendo la tre spiegare ai bambini della prima alimentare cos'ha il ccrr questa dobbiamo cambiarla perché già è stata messa in atto poi tre no quattro sport cinque lezioni di basket e di hockey questa dobbiamo cambiarla pure perché già stanno in atto e cinque tempo libero aiutare l'associazione plastic free raccogliendo la plastica carta presente nel paese però l'ho censurato il paese quindi il tempo libero lo lasciamo dobbiamo cambiare il 4 il 3 e l'1 quindi andata no no mamma mia ragazzi oh mio dio c'era una canzone copyright beh in poche parole dobbiamo cambiare queste tre cose quindi scrivete nei commenti cosa vorreste cambiare io li scrivo qua e poi farò un video bene per questo video di cinque minuti spesi bene io vi saluto però bene vi voglio salutare ok da tiger è tutto tiger out ciao 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 ciao